A Cremona, dove i Grigiorossi stanno ormai sprofondendo verso la retrocessione. La gara viene sbloccata da Mandragora al ventisettesimo con un sinistro angolato in mischia. I Lombardi provano a reagire ma i Viola mettono in ghiaccio la vittoria al cinquantesimo con Cabral, assist di Mandragora. A Verona, gara equilibrata con botte risposta nelle riprese. Giallo-Blu in vantaggio al cinquantunesimo con una conclusione potente di Verdi. I Brazzoli pareggiano al cinquantacinquesimo con assist di Augusta. Anche l'Ellas classifica drammatica. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao!